piccolino perché sai è cresciuto a Messina un po' l'alternativo dovevo farlo perché non ce la facevo più a Messina allora chiedi, dissi ok quello che c'è in Italia è l'eleganza, la calma e quello che cazzo vuoi affibbiare a queste due personalità di Youtube no in Italia c'era dei pre, no non intendo male probabilmente all'inizio quello che ne non c'è sono le urla e questo magari è un modo per attirare anche l'attenzione funzionò alla grande, funzionò tantissimo quindi feci video per otto anni, diventai famoso, abbracciai queste due strategie, urlare da volgarità quello che accadde fu successo estremo, non estremo come possono farli ragazzi un po' più bellini che ci tengono alla propria salute io sono un coglione, così da migliorare anche la propria immagine, non mi è mai interessato ma perché sono stupido io non voglio, non ve lo sto raccontando a mo' di tratto mio, è un tratto negativo non l'ho scelto io, l'ho scelto io, ma non l'ho scelto io perché mi piaceva, mi odio un po', sono un cretino arrivo a un successo estremo sempre top, gli argomenti a... si si si, grazie l'Odigic benvenuto fra i obesi no, 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 no il successo fu estremo e quello che accadde fu io dissi è facile è molto facile mi dà fastidio è facile ho utilizzato queste due semplicissime da capire esche questi due vermetti che tanto vi piacciono e mi piacciono perché sono del gruppo io ovvero le urle e la volgarità per conquistare l'Italia e buttare nel cesso quella che era la mia facilità perché se c'è un motivo per il cui esiste la frase i youtuber non sono veri lavoratori forse un po' è anche questo ovvero che è facile e non c'è quella fatica là e io non voglio buona la merda sì buona la merda per quelle persone là noi siamo più normali si può dire normali o dobbiamo difendere anche le persone che si vedono in bocca non siamo arrivati ancora a quel punto no 10-20 anni dai ci vediamo fra 10-20 anni Marco Cinquantino che mangia la merda e dice viva la merda ma ci arriviamo non pensate che io stia scherzando siamo proprio nel pianeta terra dicevo io non sto insultando il fatto che sia facile io amo la mia vita e non la scambierei con un cazzo di niente ragazzi amo vedervi dappertutto in Italia amo vedere che funziono amo vedere le vostre facce che ridono se faccio le minchiate amo essere in quella condizione veramente privilegiata della persona che se dice la stessa cazzata di un'altra che non è famosa la gente ride perché mi regalate fiducia questa è proprio amicizia ed è bello non posso negare che sia bello ma non posso neanche negare che come realizzazione personale questa cosa mi abbia veramente frenato questa roba qua della facilità di ottenere tutto il pare benvenuto fra gli obesi un'altra cosa che mi buttò veramente giù fu che più si andava avanti più potevo anche rendere il messaggio schifoso tanto non ci faceva niente perché anch'io facevo parte di un club del cazzo delle persone che dicevano su youtube bisogna portare qualità che noia ragazzi ma chi cazzo lo dice no nella tv bisogna portare nella tv bisogna portare qualità perché sennò ti buttano giù il programma ma su youtube specialmente da me ipocrita marco ventenne ipocritino soprattutto essere arrivato su internet e aver amato per la prima volta queste prime cose delle ragazze che si cagavano il fatto che era pazzo come posso arrivare a pensare di questo qua della qualità perché perché c'era quell'essenza di gruppo sapevo che avevo creato la mia elite di persone che portavano avanti la bandiera della cazzo di qualità e ironicamente facevo lo stesso errore delle persone che difendevano la tv o le persone della generazione prima che dicevano che erano molto meglio erano molto meglio i veri lavori facendo così facendo così facevo il loro stesso errore mi curavo mi alleggerivo il culo mi mettevo il culo sugli allori grazie alle persone del club della qualità tradendo internet che è sempre stato amichetto mio mi ha anche regalato tutto quello che ho e vabbè si cresce però questa crescita mi ha anche insegnato che indipendentemente dal contenuto indipendentemente dal messaggio il contenuto è contenuto grande messaggione vorrei ma come fai a dire che è facile non senti primamente responsabile di tutte le persone che hai al seguito cioè le parole che scegli di usare influiscono le persone che ti seguono Marco è importante essere responsabile autoriali con le persone inferiori di noi inferiore a noi intanto che cazzo vuol dire Marco devi prestare attenzione a non diventare una persona inferiore a te oh mio dio Marco non puoi essere di un peso inferiore a un numero qualsiasi Marco tu tendi a infinito Marco io voglio un ragazzo di giro Marco altro è un po' la presa in giro nessuno inferiore di nessuno vabbè si si ho capito però si è veramente più facile è più facile della vita rutinaria comunque arriviamo al punto dove ho capito questa cosa qua ho capito che il contenuto il contenuto sicuramente fa lo youtuber ma lo youtuber non deve per forza fare il contenuto con un messaggio specialmente quando il mio caso parlava di una persona che utilizzava le esche spicciola è stupide come le urla è la volgalità per parlare di videogiochi e di cartoni ergo un cazzo di niente niente i videogiochi eh? io a me ha cresciuto questa cosa qua a me Zelda mi ha cresciuto mi ha mi ha teso la mano e mi ha portato bene ma ognuno ha il suo al tizio che vive nel Kilimanjaro sai cosa sai cosa l'ho tenuto in vita? le lumache che vende al mercato a zero euro ciascuna niente e poi e poi è pure un passatempo solo giocattoli elettronici come può la gente affibbiare a una persona come me il titolo di divino quando l'unica cosa che ho fatto è parlare delle cose che parlano tutti semplicemente con le urla e le e le cazzo di parolacce questa cosa qua piano piano mi entrava dentro il culo e diceva Marco bene grande skill di montaggio sei veramente un grande penso sia una delle mie poche ma più grandi abilità mi diverto molto a montare penso di fare un buon lavoro anche dal vostro canto sento spesso questo ma il contenuto non l'ho mai sentito di qualità per quanto la gente mi riusciva a abbellire tutte le frasi rivolte a me con genio tu sei tu sei il cazzo di youtuber quello che è un po' quello che dicono a tutti ma questo era ancora un altro indizio del fatto che indipendentemente da quello che cazzo porti basta che porti questa cosa mi ha fatto schifo e mi ha reso un po' triste e questo è il motivo per cui sono arrivato a fare i Mary Act ovvero Michele comunque uomo non parto da pubblicità finora non ho vista nemmeno una non le ho messe sono parliamone un po' sentivo veramente tristezza tantissima ragazzi sapevo di essere sapevo di essere in un sito dove potevo veramente mettere il cazzo che volevo e la gente l'avrebbe succhiato fino a farsi sborrare in bocca e e finire tutta la giornata con grazie Marco ancora è proprio una bella metafora perché è proprio così e io capisco che questo qua è il paradiso dell'influencer minchia bro hai trovato la formula perfetta ed anche un modus operandi per farla un po' per sempre che cazzo fai non vuoi farla no perché chiamatemi figlio di buttana chiamatemi cioccolattino ma a me principalmente quello che ha dato internet e dio merda è quello che dà a tutti è vicinanza alle persone la prima cosa che mi fece di nerd minchia bro ciao come cazzo stai è un mio vecchissimo amico sempre benvenuto fra i obesi dicevo la prima cosa che mi piacque di internet quando diventa famoso è stata l'avvicinanza a voi perché ero solo lo siamo tutti e quindi se c'è se c'è veramente questo ragazzi ve lo dico dal dio merda di cuore perché non ho nient'altro se c'è qualcosa che davvero a cui vorrei dare valore grazie mio whisker benvenuto fra i obesi dicevo mannai a tutto se c'è una cosa a cui voglio dare valore è la mia mannaggia i soldi è la mia inclinazione nel volere bene a qualcuno e farmi volere bene da qualcuno ed è successo in centinaia di migliaia questa roba qua e questa cosa ha molto valore ho notato che indimidentemente da che cazzo caricavo era sempre la stessa solfa perciò non catalogate questo come il grido di aiuto se cambiano i contenuti amateli per forza no 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 ma almeno cercate di capire che dietro al contenuto c'è qualcuno che semplicemente vuole farvi capire che se sta succedendo questa cosa c'è un motivo ed è veramente lontano dai dio bastardo di soldi che non contano davvero un cazzo oltre quello che io posso comprare per farvi accorgere che io ancora penso a voi sempre perché io non ho niente la gente mi dice ma sei una grande persona non mi serve un cazzo non mi serve a niente essere una buona persona non mi serve non mi serve perché non credo non credo al karma non credo all'equilibrio non credo al fatto che sono una buona persona o buone persone vicine a me perché non mi serve neanche quello tutti ce la vogliamo mettere nel culo lo sappiamo e ce la vogliamo mettere pure in questo paese che è uno dei più easy da quel punto di vista quindi figuriamoci negli altri a me non serve quello che sei è proprio il fattore prendere ciò che è superfluo e tramutarlo in un messaggio maggiore purtroppo il tuo pregio è stato anche il maggiore difetto in quanto non ti permette di fare quello che vuoi prendo Earthstone con Lorenzo bellissimo c'era sinergia ma l'utenza da te non vuole quello odio questo lato della fendence io personalmente apprezzo quello che fai che ti senti anche perché quando lo fai e ti va si nota di più la tua spontaneità siamo molto d'accordo la fanbase non vuole quello ma sono arrivato a un punto dove ho detto quel periodo là in cui sono riuscito ad entrare nell'universo di internet sono riuscito ad entrarci perché ero molto felice e questa cosa funzionava perché avevo quello che mi piaceva avevo trovato delle persone a cui piaceva pure porco oddio facciamo club ma poi quando sei andato a perdere questa cosa qua e quando sei andato a perdere quello che era il rapporto fra me e voi scusate se dico voi sappiamo che qua quanto siamo mille e due siamo tutti fichissi ho detto e allora che cazzo rimane allora che cazzo rimane se devo solamente soddisfare una una richiesta del pubblico che ok io ho creato ma che serve solamente quella per loro allora è finita e io lo so che è estremamente questa è la luna come richiesta il classico motto non chiedo mica la luna dio merda questo è un po' chiedere la luna ovvero confidenza e sinergia come ha detto l'amico e ed empatia al pubblico è veramente difficile ma è l'unica cosa che ho che mi tiene vivo ed è l'unica cosa che penso valga la pena dare indipendentemente da quello che cazzo è il contenuto quando fesci one piece wow che la renna parla oh marco che bestemmia is just try si alex un po' benvenuto fra gli obesi quando feci quel video la prima persona a cui lo mandai fu dario moccia perchè dissi ah beh gli piace one piece e mi criticò dicendo minchia queste cose si è arrivato a fare si si e c'è un grosso motivo ed è difficile da spiegare ma è questo il fatto che più ottenevo voi più perdevo me stesso in realtà no avevo sempre me stesso ma perdevo quello che era il rapporto che si era creato fra di noi mi ricordo i momenti in cui facevo i primi video e rispondevo a tutti adesso è difficile rispondo solamente a quello che mi critica di più o quello che mi vuole bene di più è un po' una merda si perde la parte grigia ma questi sono problemi che nascono con andare avanti della fama aumentano i numeri io non posso farlo con tutti e vedo anche che molti hanno il buon senso di capire questa cosa qua però questa cosa qua del messaggio necessariamente da mettere dentro i video ragazzi mi ha dato veramente alla testa in più notavo che una volta aver realizzato che i miei contenuti non erano alla fine manco niente di che cioè la gente dice sei cambiato ma da cosa da dire che se ti segui con i my little pony sei strano minchia grande qualità di youtube cosa dicevo che per fare un fancy 13 il gioco più di merda del mondo era il gioco più di merda del mondo minchia del marco merrino quello che a youtube serviva mamma mia ragazzi sta cosa è la prima volta che la dico online e mi sta togliendo un calcolino così dall'uretra è sempre stato è sempre stato bruttissimo per me essere in questa gabbia incredibile d'oro però era una minchia di gabbia non potevo uscire da quella cosa la quando feci one piece one piece è forse il miglior video del canale da questo punto di vista qua perché per quanto può essere becero e per quanto abbia utilizzato il tormento ci parlerei per 10 ore con te davvero si può parlare veramente di tutto ma la prossima volta doppia porzione di pizzoccheri per recuperare faccina che bacia va benissimo ok grazie mille anch'io parlare di ore con voi lo vorrei fare ho iniziato Twitch per questo dicevo one piece è becero perché è stupido e Dario aveva ragione però non aveva capito il concettino ed è un concettino che non ha capito un cazzo di nessuno ovvero il fatto che per quanto si abbece per quanto utilizzi anche la tecnica dei tormentoni ovvero quella là più usata dai film natale nel dio merda di Nilo ovvero wow quella renna parla comunque è stata una liberazione perché ho detto voglio veramente uscire da questo da questa ruota di contenuto di qualità quello che dice la gente almeno dove parli male di una cosa ovvia che fa schifo contenuto di qualità grande Marco stai dando valore a Youtube Italia ma che cazzo vuol dire ma che cazzo vuol dire è intrattenimento è qualsiasi cosa ma mi state dicendo che anche che odiando Di Pre non avete mai visto niente di Di Pre è logico che andate a guardarlo perché è quello ed esiste e dà un contributo può essere pure una merda può anche non insegnare niente ma non siamo in una scuola siamo su internet e noi ci siamo innamorati del fatto che era grezzo come possiamo tradire internet facendo i i selettivi su quello che di un merda deve essere il contenuto che palle questa cosa non solo distrugge il pubblico e vi rende stupidi ma distrugge anche gli influencer perché diventano tristi io diventai triste perché boh era una merda dovevo necessariamente fare i video dove facevo leggi con le immagini per sentirmi dire qualcosa di finto però porti contenuti di qualità no dico che un videogioco è brutto è come se vengo a casa tua e dico sto frigorifero non è granché non cambia veramente nulla la differenza è senza frigo non si vive con i videogiochi si può vivere è più contenuto di qualità il frigo è più contenuto di qualità il ghiaccio che esce anyway Mary Act rappresenta veramente quello che è stato il mio è stata la mia prima azione cattiva benvenuto a Storio Besi è stata la prima azione cattiva nei vostri confronti C.O.E dissi chi cazzo se ne fotte di loro molta gente ha reputato cattivo il mio avvicinarmi ai soldi con Assassin's Creed o con robe così mandando a fare un culo quello che era il mio stile ok può essere ma sapete bene anche perché chi mi segue lo sa che molti soldi li spendo per fare molte cose con i soldi e lo vedrete anche su lo vedrete in ogni cazzo di video devo affittare sempre roba devo pagare la gente devo succhiare il cazzo affanizi pagare gli avvocati per togliere le foto dall'internet devo fare tante cose quindi ok fuck money da quel punto di vista almeno quello che veramente mi interessava era qualcosa che avevo perso ovvero l'empatia con voi che si perdeva sì con queste cose qua di di Grazie.